La scuola basket Arezzo comunica con soddisfazione di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo del rapporto di collaborazione con Jacopo Vignaroli per la prossima stagione sportiva. Rientrato nella famiglia SBA nel 2015, Vignaroli rivestirà ancora i ruoli di general manager responsabile del settore minibasket, dove seguirà anche da istruttore alcuni gruppi della SBA dando seguito al progetto organizzativo e tecnico intrapreso con profitto nelle ultime tre annate. Sono molto contento, ha detto Vignaroli, di poter continuare a seguire sia in cabina di regia che in campo il progetto che abbiamo avviato tre anni fa e che ad oggi ha regalato alla SBA e a me personalmente tante soddisfazioni. Credo che grazie al contributo di tutti abbiamo portato il livello sia tecnico che organizzativo della nostra società molto in avanti rispetto alla partenza di questa avventura, ma penso anche che non ci possiamo accontentare e, più che indietro, dobbiamo guardare avanti al nostro futuro con la voglia e la determinazione di crescere e migliorare ulteriormente. Metterò tutto me stesso e tutta la mia passione per la pallacanestro perché ciò da semplice ambizione possa diventare realtà. Voglio chiudere ringraziando il presidente Castelli e tutta la dirigenza per aver apprezzato il lavoro che ho svolto fino ad oggi e per la fiducia che mi hanno dimostrato rinnovando la nostra collaborazione anche per la prossima stagione sportiva. A Jacopo Vignaroli va il grande in bocca al lupo dell'Amen Scuola Baschetta Rezzo.